Il cortile sul retro della caserma dei carabinieri di cortile degli Svizzeri ha ospitato la cerimonia per il 202esimo anniversario di fondazione dell'arma. Cerimonia all'insegna della sobrietà, come ormai con suetudine da diversi anni, a cui hanno partecipato le autorità cittadine e il prefetto Giovanna Cagliostro. Dopo il saluto ai labari e ai gonfaloni, il maggiore affinito ha letto il messaggio inviato dal capo dello Stato. Ha preso poi la parola il comandante provinciale Marco Rosi, che ha commentato i risultati ottenuti dal comando provinciale durante l'ultimo anno. Io comando il comando provinciale da Lucca da settembre. Abbiamo avuto attività pregevoli sul territorio, sia di contrasto alla criminalità, sia attività di prevenzione, che ci hanno permesso anche di dare una risposta a tutte quelle che sono le problematiche del caso. Complessivamente, i carabinieri del comando provinciale, durante l'ultimo anno, hanno tratto in arresto 368 persone, denunciandone 2824. Questa attività ha visto una diminuzione dei reati di circa l'8,4% rispetto al periodo precedente. Al termine della cerimonia, sono stati consegnati gli attestati al personale che si è particolarmente distinto. Saluto!